per incentivare le assunzioni stabili, spunta l'ipotesi di rincarare il costo dei contratti a tempo. Si tratta di una misura, che potrebbe essere inserita nella manovra, anche se per il momento non è stato ancora deciso. L'intervento prevederebbe un rialzo della liquota contributiva aggiuntiva, 1,4%, prevista nei contratti a tempo determinato e oggi destinata alla nuova assicurazione sociale per l'impiego, NASPI.